Zona gialla confermata e nel mirino la zona bianca RT puntuale maggiore di 1, 1.08 per la precisione, ma con il limite inferiore sotto l'1 e quanto emerge dai dati di monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute all'esame della cabina di regia. L'obiettivo del Molise lo indica il presidente Donato Toma continuare a migliorare tutti gli indici puntando al passaggio in zona bianca tra due settimane e ancora prima regione d'Italia covid free, obiettivi ambiziosi ma raggiungibili considerando anche che l'incidenza positivi per ogni 100.000 abitanti continua a scendere. I nostri numeri sono da zona bianca ma vanno consolidati, anzi migliorati, spiega a Teleregione il presidente Toma. Monitoraggio che lunedì sarà attenzionato dalla cabina di regia, poi lo studio finirà al Consiglio dei Ministri programmato per mercoledì. Le regioni chiedono al governo di eliminare le principali restrizioni ragionando su nuovi parametri. La maggioranza ha presentato al Senato un ordine del giorno nel quale chiede di arrivare al più presto, al Green Pass e soprattutto lo spostamento dell'inizio del coprifuoco dalle 22 alle 23, provvedimento che i cittadini approvano. Sì, secondo me c'è più possibilità di vivere le serate. Quindi è positiva come misura? Certo, sicuramente per il commercio e un po' per tutto quello che porta l'estate, la primavera. Beh diciamo che in realtà non sposta molto la differenza di un'ora dalle 22 alle 23, però sicuramente potrebbe servire almeno per le attività di ristorazione a concedere l'apertura a cena in un orario un po' più tranquillo, perché oggi con il coprifuoco alle 10 non ti consente di cenare e di essere tranquillo, però sicuramente qualcosa in più, un piccolo passo verso un lento ritorno alla normalità, si spera. Per me è benissimo, perché non è il coprifuoco che fa togliere tutto questo Covid e con Magna Bella, quindi per me se non ci fosse è meglio, molto meglio. Sempre buono purché finisca sta storia della pandemia, perché io ho fiducia in chi deve decidere e credo che se decidano 23 o 24 un motivo ce l'avranno, quindi va bene così, speriamo che tutto si risolva nel migliore dei modi e ci lasciano la libertà di prima. Grazie. 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 Grazie.